Ciao a tutti ragazzi bentornati da Carmi Special tra l'altro qua ho beccato anche un articolo che parla di fantacalcio con i vari meme sul mondo del fantacalcio su questa giornata fantacalcistica quindi io vi lascio il link in descrizione soprattutto in questo periodo di calcio mercato è ancora più utile perché vi aggiorna sulle varie trattative su infortuni o appunto novità di calcio mercato e anche soprattutto per i fan d'allenatore è quindi ancora più utile quindi io vi lascio il link qua sotto per scaricarla gratuitamente quindi non vi preoccupate da questo punto di vista ovvero della nostra giornata al fantacalcio la mia è stata pazza a proposito si lo so ho dei capelli orribili ultimamente me l'avete fatto notare ieri gentilmente ovviamente senza alcun tipo di imbarazzo da parte mia ovviamente ragazzi ma tranquilli li taglierò li taglierò presto penso in settimana non vi preoccupate comunque parliamo di cose seri andiamo al socco del discorso e parliamo di questa giornata fantacalcistica vi mostrerò i miei fantacalcio ad asta e la lega pubblica non vi mostrerò a questo punto in molte giornate quelle a quotazioni che magari vi possono annoiare ve li mostrerò ogni tanto quando ci saranno risvolti dal punto di vista della classifica del calcio mercato e così via oppure qualche giornata pazza clamorosa vi basta sapere che questa giornata avevo ad esempio quagliarella che mi ha aiutato sono stato uno diciamo non dei migliori a metà classifica di giornata quindi niente di che ok andiamo a vedere però i risultati appunto allora che ci interessano in questa giornata fantacalcistica voi i vostri raccontatemi qua sotto anche in maniera particolare con tutti i dettagli vi ricordo anche il nostro store lo trovate anche nelle schede e passiamo alla lega pubblica molti mi stanno chiedendo ma carmi il mercato beh è aperto finalmente è finito il girone di andata e come vi avevo detto c'era appunto il mercato quindi sfruttatelo questa settimana ma ma non vi perdete a tal proposito il video di domani perché ne parleremo insieme sia della lega sia appunto del mercato che ci sarà vi darò qualche dritta e parleremo anche dei fantacalcio a quotazione perché so che molti di voi lo fanno ne fanno appunto come ne faccio diversi io quindi ne parleremo un po' su come è andato finora e su come muoversi eventualmente anche per il futuro quindi non vi perdete il video di domani comunque finalmente appunto ce ne sarà il mercato in questa settimana ho fatto il 443esimo punteggio di giornata 72.5 non è gran che avevo Olsen in porta e potevo invece mettere Donnarumma qui ho sbagliato ho scelto la squadra che giocava in casa sbagliando però mi segna Gosens gran pupillo ha azzeccato questo acquisto in attacco avevo l'assist di Belotti e il gol di Martinez pochi bonus effettivamente ragazzi perché in questa rosa non ho né Immobile né Cristiano Ronaldo che so che hanno in molti hanno fatto un po' di sacrifici per prenderli e gli hanno reso bene forse avevo a Muriel col rigore sbagliato meno male che non ho messo Muriel ragazzi comunque questo è stato il mio punteggio vediamo i migliori di giornata Infermable con 95.5 Los Angeles Crackers 94.5 e Flamengo 91 complimenti a voi tre ragazzi andiamo a vedere invece la classifica generale sono 246esimo quindi sono sempre lì nella top 250 però devo assolutamente rimontare 1403 punti vediamo i primi invece tortenham con 1491.5 e 1489 il secondo che è superstars 81 e poi villaggio del sole con 1487.5 cito anche misto fritto che finalmente sono riuscito a citare leggere bene perché giustamente lui scrive misto fritto e io lo leggo sempre quindi sbagliato invece misto fritto grazie di averlo di questi nomi ignoranti di queste perle che mi reglate comunque andiamo a vedere invece i fantacalcio a quotazioni partiamo da quello che è andato meglio così concludiamo poi con le imprecazioni no che vi piacciono tanto nel finale e partiamo dal fantacalcio mantra miracolo signori miracolo sono riuscito a vincere il fantacalcio mantra anche in maniera decisa e netta perché ho vinto bene 4 a 1 ragazzi sì ho fatto 4 gol in un fantacalcio mantra precisi precisi mi pare 84 grazie a immobile cuaierella la coppia d'attacco che avevo preso inizio anno che doveva rendere in questa maniera quindi con due gol di uno e un gol dell'altro no immobile ha reso bene cuaierella finora no si sta forse riprendendo e parleremo nei prossimi giorni cuaierella quindi con doppietta però guardate lì in difesa pezzelle jacoponi due gol sulla difesa ho schierato un 4 4 2 il mantra è così devi schierare delle formazioni ovviamente reali non puoi schierare più di due punte centrali quindi le mie due punte erano immobile cuaierella a centrocampo nulla di che buonaventura castro virilli e verdi l'altro esterno deve essere per forza una e avevo hat burr che tra l'altro si è perso anche giallo però ragazzi lì in difesa pezzelle jacoponi in gol non era necessario il gol di jacoponi nel finale però era proprio per infierire sul mio avversario che era shaman team appunto di di viaggio in classifica però in classifica però sono ancora quinto sono ancora quinto con la peggior difesa ovviamente 32 gol subito in 19 giornate e non fa da calcio mantra vi assicuro che sono tanti anche perché ho la somma punti migliore forse la seconda migliore somma punti e i mufloni io siamo praticamente indietro nonostante abbiamo una somma punti migliore degli altri proprio a causa del calendario un po sfigato per fortuna sta giornata ho vinto ma ho fatto quattro gol contro uno quando ne farò due tre perché lo qualcuno che ne farà di più sicuro ragazzi comunque dai accontentiamoci di questa vittoria anche perché l'unica dei vari fantacalcio d'asta infatti nel fantacalcio con i miei amici ho pareggiato due a due ora andiamo a vedere che tipo di bonus ho avuto io e il mio avversario i miei bonus sono cristiano ronaldo martinez che sono appunto i giocatori più forti che non nella rosa e gosens difensore acquistato voluto all'asta pagato non tantissimo però colpo riuscito volevo anche così in estate e ragazzi veramente mi sta portando tanto di quelle soddisfazioni il suo giocatore veramente è una goduria e una goduria infatti ci ho fatto un meme anche su instagram però 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 a parte che c'è una sfilza di 5 clamorosi lazari lazari non so perché la redazione gli ha dato 5 e mezzo ma che partita si sono visti che lazari ha corso come un disgraziato tutta la partita gli hanno 5 e mezzo ha fatto anche due passaggi interessanti per immobile se non sbaglio ma non lo capisco sto voto mentre l'altro insufficiente ci posso stare anzi ho sbagliato a non mettere di bala al posto di caputo di bala mi prende 8 caputo 5 l'altra volta lascio fuori martinez martinez segni e caputo non fa caputo mi sa che adesso lo metto in banchina e la prossima giornata probabilmente segnerà comunque invece contro contro andiamo a vedere contro perché contro ciò il gol di immobile tu dici va bene col di immobile ci sta segna sempre vuoi che non segni anche contro i messi ma come ha segnato ragazzi con l'ospina che praticamente gli regala un gol di lorenzo poteva benissimo salvarlo ma no mettiamola dentro perché fai il più tre contro a carmi special noi glielo vediamo e infatti ha segnato immobile gli hanno dato a immobile anche se su questa cosa sono un po' in disaccordo perché di lorenzo fa una giocata poteva benissimo spazzarla invece la mette in porta però c'è una regola speciale dalla uefa o fifa che cavolo l'ha decisa che è gol di immobile va bene comunque poi assist di belotti assist di hernandez e gol rigore parato da andanovic rigore parato da andanovic proprio per non varsi mancare nulla rigore parato da andanovic contro poteva benissimo subire due gol con il rigore segnato da muriel invece no pare il rigore andanovic non lo parava da una vita andanovic un rigore nonostante sia un gran parare rigori ma non ne parava uno da tanto ecco contro di me l'ha parato ma non è finita qui perché se vedete non giocata che la scosta chi è gli entra al suo posto perotti con l'altro calcio di rigore dato appunto alla roma che ci vuoi fare che ci vuoi fare quindi pareggiamo 2 a 2 pareggiamo 2 a 2 attenzione a questa cosa perché pareggio contro se notate il primo in classifica ok quindi pareggio praticamente in vetta non bianco troppo anzi sarebbe stata una beffa poi alla fine perdere contro di lui per fortuna Kuluseski non gli ha segnato quindi restiamo lì vicini lui a 36 io a 34 però vi faccio notare una cosa questa qua cioè sta cosa qui cioè io ho beccato su 8 persone l'unico che ha fatto due volte è stata anche una fortuna se vogliamo non cambiava granché visto che l'altro era il primo in classifica quindi alla fine la classifica non è cambiata molto anzi ci sono stati 3 pareggi su 4 sfide però voglio dire potevamo benissimo staccarci dal resto del gruppo bastava che io e lui beccassimo altri fanda alternatori invece noi ci siamo beccati tra di noi e siamo stati gli unici a fare due gol questa ragazzi questo è il mio fanda calcio la solita sfiga nel calendario la solita sfiga nel calendario non ci posso far nulla purtroppo comunque la classifica per ora è giusta nel senso che io e lui siamo le squadre che stanno rendendo meglio ed è giusto che lui per ora sia primo però proverò a strappargli il posto come ha fatto lui lo scorso anno comunque andiamo allora nel fanda calcio quello con i vloggers juventini ok una lega 10 dove ragazzi stagiornata ho perso 3 a 2 avevo quagliarella con doppietta l'assiste di hernandez gol e imbattibilità di dragoschi però una sfilza di 5 e 4 e mezzo di poli 4 e mezzo ho sbagliato ma ero in emergenza centro campo 5 di sensi 5 di caputo pesanti ragazzi voti pesanti e però andiamo a vedere contro andiamo a vedere contro si parte con la prima partita gol di leao subisco gol di leao e tu dici e vabbè subiamo gol da leao poi subiamo gol da berengher e subiamo gol da berengher poi subiamo gol da pezzella cioè io devo perdere 3 a 2 contro i gol di leao berengher e pezzella anche l'imbattibilità di stracoscia contro il napoli certo per non farci mancare nulla quindi si perde 3 a 2 in questa maniera con leao berengher e pezzella contro no comment ragazzi no comment andiamo a vedere la classifica perché adesso capirete ancora di più sono infatti quarto ok non sono messo malissimo l'obiettivo almeno minimo in tutti i miei fan da calcio è arrivare a podio in tutte le mie leghe lo sapete poi se riesco anche a vincere è ancora appunto meglio però vi faccio notare che anche qui anche qui come nel mantra sono quello con la peggior difesa 32 gol subiti ragazzi 32 gol subiti in 17 giornate questa 17 giornate la somma punti è simile ai primi due che però con un calendario migliore sono a più 8 e più 10 da me quindi vi faccio questo per farvi capire potevo guardate ci sono ben 5 persone 5 persone con 0 gol fatti questa giornata potevo benissimo beccare uno di loro no assolutamente no dovevo beccare uno che ne faceva 3 ma ovvio ragazzi ma ovvio quindi che dico qua per vincere devo fare almeno 4 gol a partita neanche detto neanche detto perché forse una giornata ho pareggiato 4 a 4 se non ricordo male comunque ragazzi questa è la mia sfiga spero a voi sia andata anche un po' meglio me lo auguro perché peggio di così forse è difficile comunque lo so lo so la sfiga ce l'hanno tutti e il fantacalcio è anche questo ditemi come appunto vi è andata qua sotto nei commenti vi ricordo il link in descrizione insieme a quello di buon football scaricatevi appunto dal link che trovate qua sotto ma è anche finita la voce quindi direi di chiuderla qui ci vediamo domani con forse due video uno appunto sul mercato non perdetevelo appunto sul fantacalcio a quotazione sulla nostra lega pubblica anzi anzi attenzione volete iscrivervi alla lega pubblica questo è il momento per farlo anche perché come voi vi spiegherò domani c'è un premio appunto del record di giornata quindi domani ve ne parlerò quindi mi raccomando se non siete iscritti alla lega pubblica siete in tempo appunto per fatto in questa settimana per il resto ragazzi appunto ci vediamo domani poi ci saranno altri fantaconsigli nei prossimi giorni mi raccomando sintonizzati e attivate la campanella e do anche il benvenuto a tutti coloro che sono iscritti e ringrazio come sempre anche gli abbonati al canale con il quale abbiamo anche il gruppo telegram dove chiacchieriamo su di fantacalcio di calcio anche in generale ci diamo indicazioni e consigli su di fantacalcio quindi chiacchieriamo un po' con gli abbonati quindi li ringrazio ancora per il sostegno che danno al canale detto questo da Carmi Speciale è tutto alla prossima ciao ciao